Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo del defaticamento vocale, dopo la sigla. Come ben sappiamo la voce è uno strumento molto delicato, quindi prima di cantare bisogna riscaldare la voce e abbiamo visto come si fa in tanti video, abbiamo fatto tanti esercizi e vi lascio comunque dei link in descrizione con delle puntate dedicate al riscaldamento vocale. Come si fa per riscaldare la voce? Allo stesso modo si deve poi defaticare la voce, cioè farla raffreddare dopo aver cantato. Cioè dopo che noi abbiamo cantato, se abbiamo cantato tanto tempo, le corde vocali sono state sottoposte a un maggiore stiramento rispetto a quello che noi facciamo quando parliamo normalmente. Quindi poi, non so se vi è già capitato, dopo aver fatto un concerto o comunque aver cantato molto, sentite la voce magari un po' affaticata, può capitare. In quel caso bisogna riportare la voce, diciamo nella tonalità del parlato, se vogliamo dirla in questi termini. Quindi, come bisogna fare? Ci sono degli esercizi che si possono fare tranquillamente per riportare la voce a raffreddarsi piano piano, che sono ad esempio il fry, che è... Ma questo esercizio... Ho fatto una puntata anche sul fry, quindi lascerò anche il link che parla del fry, oppure possiamo fare dei suoni muti... così massaggiando un po' le corde. E se avete la possibilità di fare dei vocalizzi, tipo... utilizziamo la chitarra, partendo da un do, possiamo fare do, re, mi, re, do... a bocca chiusa... molto lentamente, andando avanti... per le femminucce... leggeri... e poi torniamo indietro... siamo di nuovo sui maschietti... questo potete fare per portare la voce di nuovo a raffreddarsi piano piano... o comunque abbiamo detto il fry... facciamo proprio questo massaggio alle corde... e poi in più... se siamo costretti, dopo un'esibizione, a parlare con delle persone, magari l'ambiente è anche un po' rumoroso, cerchiamo di parlare con una posizione della voce alta, cioè in maschera, in questo modo qua... in modo che, siccome le corde sono state un po' tirate, non andiamo subito a forzare la voce, cioè a parlare in una posizione troppo bassa, altrimenti questo è quello che succede, cioè ci affatichiamo ancora di più. quindi, basterà spostare la proiezione del fiato, anziché in questa zona un po' bassa... spostarla in una zona più acuta, non si tratta di fare una voce più alta, attenzione... non da a... ma a... anziché a... 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 non so se si è capito, comunque parlare in una zona un po' più... nasale, diciamo così, in modo che la voce resta un po' più su e non si affatichi e non vada verso la gola. Comunque, ad ogni modo, la cosa migliore da fare dopo che si è cantato molto è stare in silenzio per un po', se abbiamo cantato davvero tanto, e quindi io proprio starei 5-10 minuti in silenzio senza parlare, in modo che piano piano si ristabilizzi la voce normale, e poi ricominciamo a parlare facendo queste piccole accortezze di parlare con un tono più alto, oppure comunque rilassare la voce finché ritorni tutto come prima. Grazie. 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 Grazie.